Figlio di Lauro e fratello minore di Nando. Dopo aver abbandonato gli studi di medicina. Debutta in teatro nel 1960 e inizia la sua carriera recitando nel ruolo del titolo Nè il più gran ladro della città di Dalton Trumbo al Teatro Manzoni di Milano. Regia di Gianfranco De Bosio. Successivamente, insieme ad Antonio Calenda, Vittorio Sindoni ed attori emergenti di quegli anni. Leo De Berardinis, Piera degli Esposti, Gigi Proietti. Contribuisce a fondare la prima storica cantina teatrale romana. Il Teatro dei 101. Prediligendo lavori d'avanguardia e autori quali Arrabal e Pinter. Corrado Augias, Giorgio Manganelli. Subito dopo l'esperienza dei 101 torna al Teatro Ufficiale interpretando per la prima volta in Italia un testo di Samuel Beckett. Tutti quelli che cadono. Protagonista insieme a Paola Borboni. Con la regia di Beppe Menegatti. Al Teatro Stabile di Firenze e al Teatro Odeon di Milano. Nel 1967 interpreta il Lutero di Osborne. Con la regia di Menegatti. Che gli vale il più prestigioso riconoscimento della critica teatrale di quegli anni. Il premio Sangenesio come miglior attore protagonista. Attribuitogli in concorrenza con Vittorio Gasman e Tino Guazzelli. Prosegue la sua carriera interpretando ruoli primari con altri grandi registi come Missiroli, Castri, Trionfo, Guicciardini, Sequi, Pagliaro, Tiezzi, Garella, Cobelli, Mezzadri, De Chiara, Parodi, Marcucci, Emiliani, Maraini. In televisione ha interpretato lo ruolo del presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt nel film TV del 1975 La guerra al tavolo della pace e la conferenza di Yalta. Nel 1973 Roberto Rossellini gli affida il ruolo di protagonista nel film Leon Battista Alberti. È tuttora in attività con ruoli minuziosamente scelti e magistralmente interpretati. Recentemente in Dante raccontato da Boccaccio. Oppure nell'Ecclesiaste.